La città di Acquiterme e il territorio che la circonda sono luoghi di grandissima bellezza, riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Abbiamo una varietà di paesaggio straordinaria, dalle colline dolci che vanno verso la zona dell'Astigiano, alle colline più aspre che vanno verso l'Appennino Ligure, ma in ogni caso chiunque a piedi, in bicicletta o semplicemente anche in auto, ma lentamente, si può godere un territorio straordinario. Questa straordinaria bellezza rivive nei profumi e nei sapori dei nostri straordinari vini. Non mi resta che invitarvi tutti a scoprire Acquiterme, a scoprire il territorio acquese e a vivere l'esperienza di una tradizione millenaria. Al prossimo episodio Grazie per la visione!